salve amici come al solito mettete un like e iscrivetevi ovviamente se vi piace quello che faccio allora iniziamo con ciò che troveremo dal lunedì 18 dicembre intanto un tritatutto elettrico silver crest a 12 euro capacità 300 millilitri con pulsante turbo per la maggiore potenza adatto anche per tritare il ghiaccio e montare la panna c'è il disco emulsionante incluso potenza assorbita 260 watt quindi consuma ma non molto poi consideriamo che non l'usiamo per tempi lunghi diciamoci come stanno le cose poi ancora abbiamo piastra a diluzione a 40 euro esattamente 39 euro e 99 centesimi a 10 livelli regolabili di potenza e di temperatura fino a 240 gradi celsius e otto programmi automatici timer regolabile fino a 180 minuti dimensioni 31 per 27 per 6,3 centimetri potenza assorbita 2200 watt ecco apparentemente consuma molto in realtà cuoce molto più velocemente rispetto alle piastre elettriche tradizionali quindi si può prendere in considerazione poi ancora abbiamo un microonde digitale a 99 euro al grill e 10 programma di cottura automatici 800 1200 watt dimensioni 45,2 x 26,2 x 39,7 centimetri a 11 livelli di potenza piatto girevole in vetro e griglia rialzata inclusi alla funzione di scongelamento e il timer da 95 minuti avvio rapido e protezione per bambini un buon prodotto a un prezzo normale frullatore immersione digitale a 20 euro capacità 700 millilitri con display led cinque livelli di velocità e tasto turbo base con inserto a quattro lami in acciaio inox 1000 watt di potenza assorbita poi affettatrice elettrica a 40 euro potenza a 100 watt quindi non consuma molto dimensioni 33 x 27,1 x 20,1 cm quando è aperta quando è chiusa ovviamente diventa più piccola con lama ondulata di precisione e piastra di regolazione rimovibile vedete come ondulata non è come quella dei salunieri dove andate a comprare gli affettati ecco io ce l'ho di un'altra marca onestamente ve la sconsiglio però voi fate come volete regolazione di larghezza di taglio fino a 17 mm richiudibile e salva spazio tritacarne elettrico 44 euro è il tipico tritacarne ispirata a quello del macellaio utilizzo multifunzione ideale per tritare carne usare verdure per preparare salsicce biscotti dimensioni compatte 21,5 x 23 x 13,5 cm quindi è facile da mettere a posto capacità 1,5 kg al minuto quindi una gran capacità cassetto per gli accessori incluso funzione reversa 1300 watt a due dischi forati da 5 mm 7 mm e tre inserti diversi per preparare salsicce polpetti biscotti e il pressino ecco ricordatevi che poi va smontato e pulito e la pulizia abbastanza antipatica a meno che non becchiate i pezzi con i metallici ovviamente i lavastolini perché specie il maiale unge insomma forno elettrico per pizza 69 euro pizza pronta in 4 minuti marcariete fatto in cina però ovviamente ideale anche per riscaldare e cuocere piadine torte salate toast panzerotti e brioche a un diametro di 33 cm alla pietra refrattane antiaderente all'interno già montata e un timer da 30 minuti ha delle palette per inserire e rimuovere la pizza sulla pietra incluse 5 livelli di cottura fino a 400 gradi celsius o centigradi dimensioni 30 x 34 x 19 cm ecco io questo ce l'ho avuto mi è durato tantissimi anni ce l'avevo della marca ferrari onestamente è ottimo per fare ad esempio le pizze congelate anche le prepara in poco tempo quindi se cucinate queste cose fatelo ovviamente fa una pizza alla volta friggitrice ad aria calda 35 euro regolazione continua della temperatura ad 80 gradi centigradi e 200 gradi centigradi volume del cestello di frittura 1,5 litri dimensione 23 x 29,7 x 28 centimetri 900 watt di potenza assorbita al timer da 30 minuti e la funzione di spegnimento automatico cestello antiaderente estraibile piastra in acciaio inossidabile protezione anti surriscaldamento ecco visto il volume ridotto di tre e mezzo io non la prenderei mai però fate voi insomma se una persona abita da solo e cucina poco può anche andare bene macchina per poco 25 euro i pop corn sono pronti in due minuti dimensioni 26 x 21 x 28,5 cm potenza 1100 watt beh qui se un appassionato di pop corn compra il mais il grano turco e poi fa macchina per hot dog 30 euro 5 livelli di cottura 650 watt di potenza assorbita anche qui va bene per chi è appassionato di hot dog se no resta lì pratica piastra per waffle 30 euro a la piastra antiaderente dimensioni 23 x 20,5 x 10 cm 700 watt ovviamente se vi passo piacciono i waffles a me onestamente fanno schifo hanno un ottimo odore però il sapore mi sembra terribile però ovviamente tutti i gusti sono gusti teiera o caffettiera 9 euro con inserto a colino in acciaio per la preparazione del testo capacità 0,9 litri e in vetro termoresistente fino a 100 gradi centinaio filtro completamente smontabile per la pulizia e lavabile in lavastoviglie per chi ama il tè questo mi sembra ottimo sbattitore digitale a 20 euro con display led 5 livelli di velocità e tasto turbo due fruste e due ganci incluse 500 watt qui vediamo il display macina caffè elettrico 11 euro e 99 centesimi quindi 12 euro per 70 grammi di chicchi di caffè sbattitore in acciaio pennello per la pulizia incluso 180 watt ecco per chi ama il caffè o una macchina da caffè che oppure usa anche la moca questo sarebbe ottimo perché il caffè si mantiene molto di più in grado poi montalatte elettrico 25 euro ecco consistenza della schiuma selezionabile schiuma calda e compatta calda e cremosa schiuma fredda latte caldo con poca schiuma capacità di riscaldare il latte 300 millilitri montalatte 150 millilitri con funzione montalatte a freddo 500 watt di potenza assorbita questo è tutto arrivederci arrivederci